Dottoressa Narciso, oggi si parla di cyberbullismo, dei rischi connessi all'uso di internet per i ragazzi. C'è stata questa interessante conferenza al Flaiano. Rischi che sono sempre dietro l'angolo. Nell'ambito della campagna Una vita da social, che la Polizia Postale delle Comunicazioni porta avanti già da qualche anno in modo itinerante in giro per tutta l'Italia, abbiamo deciso di proporre ai ragazzi una storia vera per riflettere in modo più appropriato, più profondo. La storia è stata illustrata dal regista Luca Pagliari e narra la storia del ragazzo che a Roma qualche anno fa, nel 2012 precisamente, si tolse la vita. Quali sono i rischi maggiori connessi all'utilizzo di internet per i ragazzi di oggi? Semplicemente l'inconsapevolezza, perché i ragazzi sono molto bravi, sono molto bravi con internet, sono molto bravi a livello informatico, conoscono il mondo del web, lo utilizzano sicuramente per tutte le sfumature che può dare e le notevoli opportunità che può dare. Non conoscono sempre i rischi che si celano, però è necessario che sappia che esistono questi rischi, è necessario che sappia che episodi come quelli del bullismo che qualche anno fa, come oggi, erano atti di prevaricazione, oggi sono diventati atti di prevaricazione virtuale e che però corrono e si diffondono sulla rete in modo molto più veloce rispetto a qualche anno fa.